Alghero, ieri mattina i carabinieri con il supporto dello squadrone li portato cacciatori Sardegna e del nucleo carabinieri cinofili di Abbasanta hanno tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione di armi e munizionamento e ricettazione un algherese di 50 anni piccolo imprenditore. L'arresto è conseguito all'esito di una perquisizione domiciliare durante la quale è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica beretta calibro 6,35 con matricola a brasa, cartucce di vario calibro e polvere da sparo, il tutto non denunciato. L'uomo è stato arrestato e affidato all'autorità giudiziaria.